bim bum 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 bim bum 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 che bello inizia bim bum bum e viva adesso c'è bim bum bum buon pomeriggio e buon bim bum bum a tutti sono le 4 e 5 in questi secondi, in questi istanti dopo le freschissime aspiranti pop star ecco altri giovani amici Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo il cartone che piace a tutti sportivi e non nella prossima ora ci emozioneremo con loro e si emozionerà anche la mia chiocciolina alcuni mi chiedono perché non la sentiamo mai miagolare, beh perché lei lo fa però mai davanti al microfono e soprattutto sotto c'è la musica, quindi passa in secondo piano e poi è un po' silenziosa chiocciolina, va bene, adesso guardiamo Mila e Shiro, nella prossima ora ci divertiremo con loro, buon pomeriggio con Italia 1 Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo Shiro e Mila, amore a prima vista Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo Shiro e Mila, che dolce sentimento Sempre, sempre così, sarà per Mila e Shiro Sempre, sempre così, sarà per Mila e Shiro Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ehi, nonnina, che denti grandi che hai È per mangiarti meglio, cara Oh, qualcuno ha molta fame qui Qui, Sirius Odio dover scegliere È il goloso gocciolone di miele Rende i Sirius così irresistibili che nessuno può dire di no Scusa, niente di personale Sirius di Nestlé, adesso mi dispiace per quel piccolo incidente della nonna Sono i Sirius di Nestlé Trasformati nell'elettrizzante Pikachu In Charmiglion il trago dalla coda infuocata In Ash, l'imbattibile allenatore con la sua Pokéball Gli abiti originali di Pikachu, Charmiglion e Ash sono Giochi preziosi Senti come canta il tifosotto della tua squadra nel cuore Ti avvicini la palla al piede, lui E poi col fischietto mangi tutti negli spogliatoi Anche il mini tifosotto gol è un vero tifoso Se gli premi la pancia, ti fa insieme a te Tifosotto e mini tifosotto gol Con le merendine Kinder e Ferrero Le card in digi evoluzione dei Digimon Coromon di Giovanni in Agumon Yacumon in Biomon Sunomon in Gabumon Il loro potere sarà al mio servizio Collezionatele, sono 15 Solo con le merendine Kinder e Ferrero Shelley Morbillina Shelley non va all'asilo, ha il morbillo Ora sta bene bambini ai puntini Shelley Morbillina C'è proprio tutto per prendersi cura di lei Arriva lo zainetto collezione moda di Polly Pocket Tanti vestiti troverai tutti nello zainetto Scarpe, gonne, pantaloni E alla moda giorno e sera Che inventa tanti look Con lo zainetto collezione moda di Polly Pocket Digimon, Digital Monsters Cosa sono? Sono i nuovi ovetti Digimon Finalmente! Dai! Agumon! Ragazzi, c'è bisogno di voi! Andiamo! Wow! Attenti! E' te, Digimon! Doppia energia! C'è! Ogni uvetto Digimon è doppio cioccolato E c'è un Digimon sorpresa Sì, in ogni uvetto Che buono! Tra di sempre un Digimon Che forte! Cerca di tutti e clicca sul sito Puoi vincere uno zaino Digimon Ovetti Digimon Da dolci preziosi Comunicato a tutte le pattuglie Micro Machines i carabinieri Entra in servizio la stazione dei carabinieri Dal pronto intervento decodano gli elicotteri E sorvolano la città Le pattuglie sono in servizio sulle strade Il motoscafo parte dalla base navale Il ponte si chiude E la colonna dei carabinieri raggiunge la centrale investigativa A terra Garage a due piani Tunnel segreti I veicoli e le micro città dei carabinieri Micro Machines Micro Machines Le originali Abro! Ragazzi, pausa! Da oggi per ricaricarsi a merenda c'è Oro 2+, L'energia leggera di 2 oro più il gusto della crema al cacao Adesso andiamo a giocare al parco? Ma dove la prendono tutta questa energia? Oro 2+, ricarica con gusto Anche al latte Per carnevale c'è carnevalone Carnevalone boy e girl E lo scherzo diventa uno scherzone In carnevalone girl Trovi sempre i biberon gigante O il cappello e i fiori gonfiabili In carnevalone boy C'è sempre il super martellone gonfiabile In ogni carnevalone Ci sono le maschere per trasformarti in Agomon In Pikachu o in Goku E puoi trovare i costumi dei tuoi eroi preferiti E poi tra ragni spaventosi e porti di serpenti Ci sono tantissime sorprese Carnevalone boy e girl sono Giochi preziosi Emilio, ti disturbo? No Paolo, dimmi Ti volevo ricordare che a mercoledì 21 febbraio Abbiamo la cena Io, te, Costanzo e Piero Insegno Però scusa, mi dici chi cucina? Tutti, a chi tocca al sangrugna No, no Ciao Paolo Sì, va bene Ciao Emilio Pronto Paolo? Sì, mi ricordo mercoledì la cena Sì, 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 mi ricordo Va bene Com'è? Ah, devo chiamare Piero Insegno Va bene Va bene Sì? Ehi, ciao Maurizio Che dici? Mercoledì prossimo alle 20.45 C'è la cena insieme Io debbo no No, non posso No, non posso veramente Non posso Non posso mancare sta cena Ti stavo chiamando io adesso Benissimo Tranquillo Stazione di Popstar Stazione di Popstar Le 142 signorine che hanno superato le prime selezioni Sono attese a una nuova prova Prossima fermata a Riccione Ripartiranno solo un 44 Fermo, fermo, fermo! Popstar Puntata speciale Sabato alle 18.30 Italia 1 Prossima fermata a Riccione